Sabato 13 ottobre l'Acquario Comunale di Soverato sarà a teatro del Forum 2012 Finanza e Credito organizzato dall'Associazione Sensi Mediterraneo in collaborazione con la Capital Resource Risk and Management e in collaborazione con il Comune di Soverato, con il padrugino di vari altri enti territoriali. Insieme a noi Gian Piero Girillo, amministratore di Capital Resource, un'occasione per parlare di argomenti che riguardano le nostre piccole realtà imprenditoriali della zona con una serie di attori che rappresentano appunto l'aspetto finanziario ed economico di questa che tutti ormai riconosciamo come la crisi del secolo, la nostra crisi economica e finanziaria. Sì, ma la crisi finanziaria è qualcosa che tutte le famiglie, tutte le aziende, il territorio sta vivendo drammaticamente. È una cosa che parte da lontano, parte dalla grande speculazione finanziaria nazionale ed internazionale e poi ha prodotto dei risultati pratici nella nostra quotidianità. fanno scalpore il numero di 800 imprenditori suicidatisi in pochi mesi, fa scalpore la notizia di aziende in liquidazione, aziende che delegualizzano all'estero, di aziende che chiudono, di aziende che non riescono a pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Tutto questo significa un problema molto serio perché laddove chiudono le aziende, laddove vanno all'estero, chi è poi che deve andare a pagare le imposte, i tributi? E allora tutto questo processo di programmazione e di risanamento fatto dal Governo nazionale rischia poi di fallire miseramente. Anche perché su una serie di provvedimenti che vanno dalle certificazioni alle compensazioni dei crediti fino anche al famoso scudo antispread, il Governo spesso è stato un po' confusionario. E poi parlando in termini di risultati pratici, se noi chiediamo alle famiglie o alle aziende tangibilmente cosa hanno avvertito di tutti questi provvedimenti, ci diranno le solite cose, tasse, 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 risultati pochi. Allora nel forum cerchiamo di spiegare anche questo perché, dicevamo, è una crisi che nasce dalla grande speculazione finanziaria internazionale. Hanno giocato al massacro con il sistema finanziario nazionale, le conseguenze le stanno pagando le aziende e le famiglie. Quindi crisi che parte dall'alto ma si ripercuote poi sul consumatore finale soprattutto. Saranno presenti tutti gli attori che dovranno dire la loro su questo momento che sta attraversando in pratica tutto il nostro pianeta, le banche, gli imprenditori e un esperto d'eccezione come Biagio Milano anche. Sì, Biagio Milano ormai è sensibile a questo tipo di iniziative. Biagio Milano è considerato, voglio dire, dalla stampa, dal web, è considerato tra i migliori trader di borsa a livello nazionale e oltre. Diciamo anche che poi l'abbiamo visto più volte su Classi NBC, su Repubblica TV, su Milano Finanza, è considerato un vero e proprio esperto. Bene, la sua analisi parte proprio da questo presupposto. Cioè lui tende ad analizzare quelli che sono stati i problemi, quelli che sono stati i provvedimenti verso le aziende, i cittadini, da parte del governo e quelli che potrebbero essere gli interventi di eccezione, gli interventi efficaci, con una novità di sicuro rilievo che Biagio farà presente alla platea che verrà al nostro convegno, perché ci sono degli sviluppi in corso di sicuro interesse anche a livello di grande clamore nazionale.